La nostra professionalità al vostro servizio. Tutto ebbe inizio durante il dopoguerra. Erano gli anni di fioritura per Palermo. In ogni angolo della città si respirava un'aria che da tempo tutti desideravamo. Ecco che, proprio in quel momento storico, fondammo la società. Era il 1946 quando, per la prima volta sulle strade di Palermo, si cominciavano a vedere i nostri primi pullman. Da allora, con corse e navetta, accompagniamo tutti i viaggiatori dall'aeroporto Punta Raisi alle zone più importanti di Palermo e offriamo servizi scolastici e pullman di linea verso i paesi limitrofi. Visita il nostro sito www.prestiaecomande.it per approfondire i nostri servizi e per prenotare la tua corsa direttamente online.